Buongiorno, buongiorno dal dottore Claudio Saracino, da Benessere l'ipnosi, soluzione l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo. Oggi parlo di quest'audio MP3 di CS molto potente e unico nel suo genere, dal titolo Aumenta le tue difese immunitarie. Naturalmente le mie parole, quest'audio di CS, non si sostituiscono alle terapie mediche, alle cure mediche, né fanno diagnosi né in qualsiasi modo e per qualsiasi dubbio devi prenderlo come dei consigli medici, perché devi soltanto andare dal tuo medico curante o della specialista della tua salute e chiedere se va bene o non va bene. Ma trattandosi di parole pulite, se non vanno bene queste parole non dovresti neanche accettare la televisione, i social, la radio, i tuoi amici, i tuoi parenti, chi più ne ha più ne metà. E' logico che queste suggestioni di CS sono state tarate su migliaia di persone in quasi un secolo di un antico sapere, dai miei maestri, il professore dottore Michelangiel Gara e la dottoressa Rina Brunini di Los Angeles Beverly Hills, i miei maestri, i miei mentori, i miei amici, i miei associati per l'eternità, io ci ho messo un 30% perché mi ipnosizo H24 dal 2008 ad oggi. Segui le istruzioni molto facili, la prova di un idiota, la prova di un nonno, la prova di un picro, ti scarichi quest'audio mp3 di CS sotto o sopra, vedi un po' il link dove sta, rinunci magari ad una colazione al giorno per soli 30 giorni e ti meraviglierai, insieme magari alle medicine, alle cure mediche, alle terapie, integrando il tutto anche con quest'audio mp3 di CS, anche senza fare sessione online di ippnosi di CS con il sottoscritto, che peraltro sono sospesa al momento perché sono molto impegnato e non ho molto tempo, ti meraviglierai del potere del tuo subconscio, del tuo pilota automatico, dell'88% della tua mente, per aumentare le tue difese immunitarie a livello naturale, senza doparti, ok? E senza stressarti, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio mp3 di CS, funziona anche sulle persone che non vogliono, che non possono essere aiutate, seguendo sempre queste istruzioni molto ma molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro. Fai azione, a prescindere da dove abiti nel mondo, scaricati quest'audio mp3 di CS sopra o sotto, se hai dubbi chiedi al tuo medico, oppure mandami un'email all'associazione Ipnologi Associati, ai prologi associati che oggi ho la libro.it, ti risponderemo gratis, compatibilmente ai nostri tempi e ai nostri impegni. Visita il sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti gentilmente a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, e faccia il condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla, che gli può e ti può cambiare la vita, e seguimi gentilmente anche sulle altre social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Solo a te la scelta, amico mio, amica mia, però se l'hai provate tutte, magari devi provare il potere della tua mente. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima, alla tua, ciao!